Ciao a tutti, mi chiamo Ivo, sono qui per parlare dei problemi che ci sono in Italia e voglio subito dire che siamo governati da dei politicanti di merda che ci stanno rovinando piano piano ormai da diversi anni chi più chi meno sta toccando a tutti ma noi continuiamo a fare tutto quello che facevamo prima anche se la benzina aumenta noi ci arrabbiamo, ci incazziamo ma poi dopo continuiamo a andare al distributore, a mettere benzina con la macchina di merda che ancora ci stiamo pagando a rate e arriva la bolletta della RAI e anche se sappiamo che non è legale, che è illegittimo pagare il canone RAI ma noi continuiamo a pagarlo perché abbiamo paura perché ci mettono paura questi pezzi di merda ci mettono paura perché sennò ti portano via i tuoi beni e allora continuiamo a fare tutto quello che abbiamo sempre fatto e ci incazziamo, ci lamentiamo ma andiamo avanti così e invece è ora di dire basta è ora di dire basta e come dire basta? bisogna scendere in piazza bisogna organizzare delle manifestazioni chi le organizza sicuramente la prima volta avrà poca gente perché la gente dice ma vado o non vado ci sarà gente, non ci sarà gente ma poi piano piano c'è la seconda, la terza volta la quarta manifestazione, la quinta manifestazione ci sarà sempre più gente e dobbiamo fare questo questo dobbiamo fare dobbiamo fare così dobbiamo per qualche giorno non andare a lavorare non prendere la macchina non fare benzina e incominciare a non pagare perché c'è già chi lo fa che non paga determinate cose però finché sono pochi a fare questo chi sbaglia e chi non paga ma se siamo tutti a non pagare se siamo tutti a ribellarci e allora dopo le cose cambiano le cose cambiano perché devono cambiare per forza ma se c'è un 10, un 20, un 30% che come me si vuole ribellare come me desidera non andare a fare benzina o non pagare le cose che non è giusto pagare ma se siamo in pochi a chi sbaglia siamo noi siamo solo noi chi sbaglia chi non paga proviamo a farlo tutti sicuramente le cose cambieranno perché è ora di dire basta è ora di dire basta basta, basta dobbiamo incazzarci siamo un popolo meraviglioso è ora di dire basta grazie a tutti